signore e signori ben trovati sono kingslave corporation e continuiamo in questa meravigliosa serie god of war vi ricordo di seguirmi su instagram su youtube e su twitch come kingslave corporation oggi faremo tanto molto molto tanto 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 ma ci faremo molto voi non avete idea ho liberato the dragon e adesso si va dall'altra parte atreus da me arrivo arrivo salve come va tutto bene stai a pezzo a 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 in si a operazione a stai in guardia prima di iniziare bene bene volevo colpire vuoi 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 vuolver 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 è allora che potremmo fare qua devi essere pronto perché devo andare prima di qua lupi ci siamo ci siamo non è un'altra cosa è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra Soprattutto, è l'uscita girata, quindi, lo muo più che bene! Oh Oh Dimir, perché il re nano desiderava questa armatura? Cosa ha di tanto speciale? Circolano molte leggende sulla Dvega Tic Un numero decisamente alto Il che rende difficile accertare la verità su questa armatura L'unico particolare ricorrente è la sua capacità di fornire una protezione straordinaria Una caratteristica utile per un re impopolare, non c'è che dire E una terra strazzi Ok, andiamo Ah, è piuttosto fatisciente Cosa ti aspettavi? Non so Eccolo Meno rovine forse? Magari la sua del trono è messa meglio Natale Di Yotunar Eh, Yotunar, scusate Guarda qui c'è un altro Starkadal Kavo Quante braccia? Puoi dirlo forte Sei Sette Otto Poteva usare quattro archi Preferiva la spada, dato che aveva solo due occhi Pare che Thor gli strattua le braccia Tipico da parte sua E' un'ora più fatta, va? Hai sentito? No Cosa senti, ragazzo? Pianti E una grande folla Ah, solo vecchi spiriti suppongo Vittime del regno del re pazzo Certo E' piuttosto sinistro No 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 Ok No 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 Ok, qui c'è 5 corpi Cos'è? Non mi serve Si fanno più rumorosi Sembrano quasi Hellwalker Oh, ma c'è No 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 Un sacco di Hellwalk Guarda, una scia di sana C'è un passaggio dietro questo trono Un passaggio segreto? Beh, non sarebbe una sala del trono senza un passaggio segreto Un passaggio 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 Grazie a tutti. 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 Bene. Cioè non possiamo andare indietro? C'è un pezzo di struttura, sei? C'è un pezzo di struttura, sei? Oh, è un pezzo di struttura, sei? Ah, è un pezzo di struttura, sei? Ah, è un pezzo di struttura, sei? Ah, è un pezzo di struttura, sei? Il guanto di Thanos è pronto. C'era un pezzo di struttura, sei? Ah, signori. Eccolo qua. Eccolo qua. Beh, proviamolo. Proviamolo. Bello. Non pensavo di ritrovarti qui, visto che tu e Brock si sono tornati insieme. Hai visto? Eh? Non hai mai giocato a God of War, te? E come mai sei tornato qui? Prendo solo un po' d'aria. Senti, voglio bene, Agnew, ma pezza con me che ti dole la mano. Ah, ci hai giocato? Bene, bene, sono contento, sono contento. Niente che vi aggrado, vedo. Allora, dobbiamo tornare indietro, purtroppo. Buono, buono. Io invece sull'altro account l'ho platinato. Sto riniziando da capo, giusto per intrattenimento, così. Cioè, il mio obiettivo è giocare, poi, se è possibile, pure platinarlo. Quindi. Ok. Torniamo indietro. Tornando al mio primo lavoro, io e i miei amici eravamo al servizio di un re delle fate. La sera con gli amici scorrazzavo per la foresta. Ci chiamavano buon tempore e lo eravamo con sempre. Io, per esempio, il 20 aprile, l'ho preso, sto gioco. Organizzavamo scherzi e dispetti. Ci prendevamo il gioco dei mortali. E dato che il nostro signore si divertiva, non venivamo mai puliti. Poi un giorno smise di divertirsi e decisi di andare. Grazie al cielo, gli anni e i viaggi che mi hanno condotto qui mi hanno trasformato da Gerovago spensierato in modello divino. Perché mi ero concentrato. Quindi, se hai la mia pazienza, la stabilità di giocare sempre a sto gioco, guarda, ce la farai. Fidite. Ci sono degli obiettivi difficili, però non ti preoccupare che se ti metti a capo con un pensiero, come si dice, niente ti può fermare. Avete un aspetto raggiante. Ecco i materiali. Non sono così strano. Come riuscite a creare un'armatura da delle cose così... così... Fattica. Fattica? Fatti i cazzi tuoi. Abbiamo i nostri segreti professionali. Oh. Cazzo, questo è potente come attacco runico. Questo è proprio... No, mi lascia il colpo di me di ridere. D'accordo. Allora, abbiamo sia la corazza Resindri e The Brock. The Brock che me dà. Fortuna e forza. Interessante. Interessante, interessante. Allora. Come ho detto, prima di andare lì... Devo fare lì una cosa. Una cosa molto importante. Andare a sconfiggere la Valkyrie. Sigrun. Perché sì, perché sì, perché sì. Ora, da quanto so, Sigrun è molto potente. Vabbè, già lo sapevo che è potente. Però la prima volta che ci ho giocato l'ho sconfitta 5 minuti. Massimo. No, vediamo se riesco a battere il record in meno di 5 minuti. Perché tanto sono tutti... Sono bello potenziato, quindi... Come sei finito in queste terre. Nella vita di ogni uomo giunge il momento di cambiare nome e trasferirsi a nord per iniziare una nuova vita. E se vivi tanto a lungo da cambiare vita più volte, ti troverai in un posto come questo. O te la posso raccontare più tardi. E' greve, sì, è greve. Vabbè, allora... L'ho completato in 5 minuti, però... Quante volte sono morto? Sono morto 2-3 volte. Però, completandolo in 5 minuti, già avevo capito i suoi attacchi. L'avevo capito tutti. Faceva questo, faceva quello, copiava la Valkyria di Maspelheim. Copiava... Faceva la bastarda in poche parole, però... Alla fine ce l'ho fatta. Anche se è stata molto molto dura, però ce l'ho fatta in 5 minuti. Ma vediamo se riesco a battere di meno, però... Insomma, cioè... Dove essere ultra istinto proprio, quindi... Sì, il consiglio delle Valkyrie. Le Valkyrie vengono dal Valhalla, no? Sono lieto che tu abbia prestato attenzione, fratello. Dici bene. Il Valhalla, la grande sala degli Ain Rier, è la loro dimora ad Asgard. Ma mentre si trovano là, sono soggette all'esame del padre di tutti. E i rapporti tra Odino e le Valkyrie erano tesi quando ero il suo consigliere. Ma quella è una storia ancora più lunga. Per ora che ne dici se cerchiamo degli indizi? Sì, vai. Primo elmo. Cioè, non è che ho sconfitto le Valkyrie e poi... Poi le zone al mette queste... Lo ucciso uno per uno, poi... è solo una parte di chi lo indossa. Il resto deve essere il viaggio verso il Valhalla per provare a rimediare al caos provocato dalla loro assenza. La Valkyrie... Non vedo l'ora che... Che esca due. Sì, sto aspettando. Guarda, ti posso dire che ho visto... Lo showcase della PlayStation 5. Eh, pure io, pure io. La PlayStation 5, guarda, è come le gemme. Non riesci a trovarle facilmente. Però, certo, le trovi. Tu le trovi a PlayStation 5. A 10.000 euro. Se hai tutti questi soldi... Cioè... Però, è meglio aspettare. Guarda, io non ho tanta fretta di prendere la PlayStation 5. Voglio aspettare. Perché... Poi, se rovina tutto, c'è quell'atmosfera di ansia, capito? No, no, me... Aspetta, aspetta. Come dicevo, lo showcase l'ho visto. Della PlayStation 5. E nel finale, ovviamente, c'è stava il mini trailer, il teaser trailer di God of War Ragnarok. Ora, da quanto so, da quanto i miei pensieri, le mie teorie, già sanno. Concordo con te. Faccio come PS4 e magari la trovo con la memoria potenziata. Eh, sì, sì. Ma anche se metti la memoria potenziata in Apple IV, non serve. A sto punto, invece, le fatte tutti i giochi in digitale, te le fai proprio fisico. Perché costa di meno con gigabyte, almeno te le conservi pure, capito? Per ricordo. Infatti, ho fatto una cazzata a vendermi tutti i giochi della PlayStation 3. Della PlayStation 3 vecchissima. Perché c'avevo God of War, c'avevo tutto, però l'ho invito di tutti per prendermi la PlayStation 4. Se no, non me la sarebbe presa. E niente, ho fatto un paio di teorie su God of War. Sì. Già so come va a finire, però meglio. Meglio sta nel dubbio. Allora, siamo pronti qui. 3, 2, 1, via. Vieni, 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 vieni. Eh, lo so, lo so. Mi farà male. No, oddio. No, no, via, via, via. Non posso. Ma che mi usavo? Mi piace? Mi piace? Ok. Eh sì. Aia. No, copriti, bravito. Eeeh. No, no. Eh sì. Grazie per me. No, no. Tronzo! Ok, vado, 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 vado! Mi piace! Un per lui! Sai che non ce la faccio? È così! Va! No! Bravo, bravo! Vai, 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 bravo Lorenzo! Vai, 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 grande! Vai così! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! No! Aprenditi! Troppo! Eh, cazzata! Mi devo andare a prendere! Dai, manca un minuto! Padre, occhio! Per minuto! Troppo, va! Tıyor! Ah! Guarda! Trent'a secondi! Ragazzi! Noo! 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 Nooo! 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 Voi amici, voi avete salvato le Valkyrie. Siglo, com'è accaduto? Mimir, sei tu, sei stato liberato, ma... La libertà ha un prezzo, signora. Dice il vero, per innumerevoli embedoni servimmo il padre di tutti. Ma solo tramite la sua unione con la regina ci sentimmo libere. Non sei la regina? Esiste solo una regina delle Valkyrie, la dea Freyja. Quando Odino le strappò le armi, servì io in sua assenza. Ma per il padre di tutti non era abbastanza. Egli usò una magia arcaica e corruppe le mie sorelle. Io cercai di limitare i danni, imprigionandole in luoghi dove non avrebbero potuto fare del male, ma presto... Mi smarrì a mia morte. Sigron, mi dispiace di non esserti stato utile. Avrei potuto fare qualcosa, o perlomeno provare. Adesso che cosa farai? Devo riunirmi alle mie sorelle. Insieme possiamo portare equilibrio tra i regni. Avete la benedizione eterna delle Valkyrie. Grazie, Sigrun. C'è, regà, stiamo a rendere conto qui. Ce l'abbiamo fatta, credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rianimata. Sono lieto del fatto che abbiamo liberato le Valkyrie, ma si sarebbero potute evitare così tante tragedie. Se solo... L'hai detto tu stesso, testa. Non conta più. Il passato è passato. Beh, detto da te è proprio confortante. Sono di buon umore. I nani sapranno sfruttare questo erbo. Il tuo papà è un po' cocciuto, vero? Decisamente. Oddio, non ce la faccio più. Allora, castigo. Sì, questo lo voglio. Perché questo è potente come l'Omo. Molto, molto potente. Mamma mia. Concentrazione. Vedi, vedi, come dicevo prima, la concentrazione. Questo è. Se ti concentri, arrivi fin qui. Pietra del Tempo Reignored. Ok. No, devo andare indietro così perché sennò la missione è finita. Mamma mia. Basta, basta. Oggi mi sento creativo. No, te lascia. Vai, potenzia. Sangue. Occhio, devo lanci questa cosa. Poi devo pure potenziare questi. Mamma mia, non ce la faccio. Mi sento già meno sotto pressione. Sì, qua devo prendere pure i piedi. Devo fare qualcos'altro? Non ci siamo arrivati al livello 8. Cacchia, rola. Niente. Non ci siamo arrivati al livello 8. Vabbè, io... Freyja è la regina delle Valkyrie. Sì. Non ce l'ha mai detto. E neanche tu. Spiegati, testa. O sei di nuovo stregato. Certo che no. Freyja era la regina delle Valkyrie a un certo punto. Parte della sua dote includeva la supervisione delle Valkyrie. In quanto de'Avanir la veneravano. Non ho mai saputo quanto, fino a oggi. Sicuro. Vabbè. Ma mi stai ancora seguendo? Vescepper. Dov'ero rimasto? Verso nord. Una nuova vita. Al mio arrivo decisi di mostrare quanto volevo a Udino. No, perché vedo solo una persona. Donando di una cosa che sapevo essere migrata. Vabbè. Un pozzo di conoscenze miste. O te la posso raccontare più tardi? Cioè, ha detto così e mi sta frenando. Sì. Con corpo. Avete cazzeggiato a Nithaline, vero? Da che si vede? Riconoscerei la puzza del fallimento di Ivaldi ovunque. E poi avete ancora della nebbia sulle scarpe. Grazie Brock, sei sempre... La canzone è aperta. No, niente. Credo... No. Sarà per la prossima. Neanche posso fare. Allora. Signori. Io finisco qui la live. Mi riposo un po'. Ci vediamo domani. Con un'altra live. Grazie a Presepep per avermi seguito. Per avermi fatto compagnia in tutto questo tempo. Grazie, grazie molto. Veramente. Lo apprezzo veramente. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E noi ci vediamo domani con una nuova live. Grazie a tutti. Grazie a Presepep e ci vediamo a domani. Ciao.